Tocqueville nel suo alla democrazia in America ipotizza un effetto sgradevole della democrazia che sarebbe quello della dittatura della maggioranza ovvero l'appiattimento delle diverse opinioni dei cittadini auspica anche a dei meccanismi correttivi di questo effetto sgradevole della democrazia si è verificata questa dittatura della maggioranza e sono stati applicati questi correttivi? Sì c'è quel passo giustamente celebre della democrazia in America in cui Tocqueville si domanda quale sarà il dispotismo del futuro e se lo rappresenta tenendo in chiara considerazione la situazione americana che molto lo colpì e colpì il suo immaginario se lo immagina come un potere diverso rispetto a quello tradizionale non un potere disciplinare sovrano un potere che impone cosa fare ma se lo immagina come un potere piuttosto lasco permissivo che permette agli uomini di divertirsi illimitatamente dice lui purché non pensino ad altro che a divertirsi che spezza il legame sociale fa sì che gli individui pensino solo a se stessi e dunque non pensino più alla comunità allo Stato una servitù tranquilla la chiama lui quasi volontaria questa è la situazione profetizzata da Tocqueville e di cui siamo abitatori coatti oggi la società della democrazia di massa la società che post 1989 promette la libertà dell'individuo e al tempo stesso genera fughe tragiche verso l'omologazione della società dei consumi in cui citando il Nietzsche dello Zarapustra non vi è più che un solo greggio e nessun pastore tutti pensano le stesse cose tutti vogliono le stesse cose e chi prova a pensarla altrimenti viene subito inquadrato come un visionario che deve essere messo a tacere questa è la società di cui siamo abitatori oggi profetizzata da Tocqueville una società in cui si può fare tutto ciò che si vuole a patto che si abbia l'equivalente monetario per poterselo permettere ma in cui l'unica cosa non permessa e non consentita è la progettazione di un futuro alternativo rispetto al presente è la società in cui tutto è possibile tranne che lottare per un mondo diverso è la società in cui il pensiero stesso si appiattisce e diventa omologato non c'è più bisogno di reprimere i dissidenti quando non ve ne sono più quando tutti pensano automaticamente le stesse cose se il potere tradizionalmente inteso aveva bisogno di fare presa sui corpi potremmo dire che l'odierno potere capitalistico non ha più bisogno di far presa sui corpi perché ha già fatto presa sull'anima e non vi è bisogno di disciplinare i corpi quando essi sono automaticamente già disciplinati tramite il governo delle anime potremmo dire questa è la situazione in cui siamo oggi in cui l'individuo viene continuamente celebrato ingigantito ad atomo autocratico onnipotente e nell'atto stesso in cui viene così celebrato è ridotto a puro atomo impotente al cospetto della mega macchina della produzione dell'economia feticizzata e autonomizzata questa è la situazione in cui siamo e da questo punto di vista Tocqueville è sicuramente un grandissimo diagnostico da cui partire anche se poi io credo che in Tocqueville manchino le terapie rispetto ai mali di questa società e per cui mi riferirei ad altri autori ad altre linee di pensiero per modulare la terapia e che ci sono